partiti Dream è la centropista in leggero vantaggio con all'interno Cenerentola e a largo Desmotronic e Onda Rock in seconda linea e il Tabal siamo dopo 400 metri di corsa con Dream Hila in vantaggio al suo interno Cenerentola poi seguono Desmotronic, Onda Rock e il Tabal siamo a 350 dal palo con in vantaggio Dream Hila nei confronti di Cenerentola più indietro inseguono Desmotronic, Onda Rock e Onda Rock a 200 dal palo Cenerentola sta passando nei confronti di Dream Hila nel tratto finale Cenerentola che sta prendendo il sopravvento nei confronti di El Tabal che emerge al posto d'onore nei confronti di Dream Hila e Desmotronic andiamo a rivedere le immagini con Carletto Fiocchi in sella al numero 4 dello schieramento Cenerentola a Bersagio in questa prima corsa di Agnano al posto d'onore risalendo dalle retrovie il numero 2 di El Tabal quindi 4-2 il probabile e ufficioso arrivo della prima corsa di Napoli grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti